E' stata una giornata speciale quella di oggi qui a Toronto per tutta la comunità italo-canadese. Alle mie spalle come vedete c'è il memoriale, il memoriale delle persone, degli italiani che sono morti qui nella regione dell'Ontario negli ultimi cento anni. Tante persone si sono trasferite a cavallo delle due guerre mondiali ma tante persone sono anche morte qui lavorando, cercando di costruirsi in qualche modo una vita migliore. Abbiamo parlato con Marino Toppanne che è stato il coordinatore di questo grande evento, colui che negli ultimi sei anni attraverso immagini, ricerche e testimonianze è riuscito a ricostruire tutto questo. Più di mille persone sono morte, alle mie spalle appunto c'è questo elenco ma c'è anche nell'ultima colonna ad esempio una lista, una lista vuota perché non tutti i nomi sono ancora venuti a galla. È stata una giornata ovviamente toccante, c'è stato spazio per l'ino canadese, spazio per l'ino italiano ma anche per il Padre Nostro perché Paola Breda che ha aiutato in questi anni Marino Toppanne ci ha spiegato che molte di queste persone che hanno perso la loro vita non hanno avuto nemmeno la possibilità di avere un funerale, una benedizione. E quindi questo Padre Nostro è stato un modo giusto e degno per commemorare queste persone. Andiamo ad ascoltare queste interviste, interviste con persone che hanno perso dei propri cari e ovviamente con Marino Toppanne e Paola Breda. Signor Toppanne, lei è il coordinatore di questa celebrazione, di questa cerimonia, credo che si possa dire che è quasi un sogno che finalmente si realizza dopo anni. Sì, da molti anni. Di lavoro proprio vero e proprio per organizzare, per trovare i nomi, per raccogliere i fondi, per trovare il terreno, per trovare un architetto che ci fa il disegno ci sono voluti sei anni. Però questo sogno io l'ho avuto da sempre, io quando lavoravo come sindacalista vedevo che la gente moriva sui lavori e dopo due giorni nessuno si ricordava più di loro. E ho sempre pensato che l'unico modo di ricordarli è di avere un memoriale con i nomi scolpiti su e finalmente ci siamo riusciti. Oggi sono proprio felice del risultato sperando anche che quando la gente vede questo memoriale si renderanno conto che la gente muore davvero. E questo aiuterà anche a far pensare di più di essere più prudenti sul lavoro, però aiuterà anche alle nuove generazioni di italiani a rendersi conto di quale è stato il sacrificio dei loro padri, dei loro nonni. E un'altra cosa che questo memoriale farà è di unire la comunità italiana di tutto l'Ontario, indipendentemente da quale regione vengono, vengono dalla Calabria, vengono dal Friuli, da qualsiasi parte. Ci rendiamo conto che di fronte alla morte che è uguale per tutti, siamo tutti uniti, siamo italiani e siamo fieri di essere italiani e del contributo che abbiamo dato al Canada. E amiamo il Canada, però non dimenticheremo mai la nostra terra all'Italia. Nell'occasione abbiamo sentito sia l'inno canadese, c'è stato l'inno italiano, c'è stato anche un padre nostro. Credo che siano tre elementi che riassumano in qualche modo il valore della giornata di oggi. Qual è poi appunto l'impatto che può avere per la comunità italo-canadese un evento del genere? Non trovo parole per descrivere quale sia l'impatto perché deve essere immenso. Non ho mai visto una cerimonia con tanta gente così, non so quanti possono essere qua, migliaia forse. È fantastico, è bello, è scommovente. Marino ha iniziato a lavorare su questo progetto alla vecchia maniera, andando nelle comunità e chiedendo informazioni per sapere se qualcuno aveva perso uno dei propri cari, soprattutto durante gli anni 50 e 60. Quando ha iniziato questo percorso ha capito che molte persone erano morte, anche in precedenza, durante la guerra. È andato quindi nelle biblioteche e negli archivi. Io sono stata coinvolta un paio di anni fa e ho fatto lo stesso su internet, che è più facile. Siamo partiti da 400 nomi e siamo arrivati ad oltre 1000. È difficile per me dire l'impatto di questo evento sulla comunità italiana. Io sono della seconda generazione, ma credo che per quelle precedenti sia molto importante perché hanno la sensazione che finalmente queste storie sono state raccontate e che non sono più ristrette alle loro famiglie. Ora tutti sanno, tutti gli immigrati dal 1900 a oggi hanno avuto vicende così. Facevano i lavori più difficili e quelli peggiori. Svolgevano quei mestieri che nessuno voleva fare e spesso in condizioni non sicure. Volevamo che ci fosse anche una benedizione e per questo è stato recitato il Padre Nostro. Molti lavoratori sono morti così, ai bordi di una ferrovia, e non hanno avuto neanche la possibilità dell'estrema unzione. Non sono stati nemmeno sepeliti a volte. E quindi era giusto, anche solo a livello simbolico, fare questo. Storie di vita e racconti personali si sono intrecciate al Columbus Center. Esperienze dirette di chi ha perso un proprio caro, in circostanze drammatiche. Il ricordo non si è affievolito con il tempo, il dolore rimane. Per questo, celebrazioni così tengono viva la memoria e aiutano a non dimenticare. Ascoltiamo ora le testimonianze del signor Arcangelo, originario di Pordenone, che ha perso il padre nel 1943 e a seguire il racconto della signora Elisabetta, rimasta vedova nel 1964 per un incidente occorso al marito sul lavoro. Infine, le parole del signor Vito, calabrese, emigrato in Canada e che ha perso il fratello, sempre nel 1964. Mio padre è morto in miniera a Timmings nel 1943 ed è sepelito lì. Questa è la fotografia della toma del cimitero, questo qui era un mio nipote che si è andato a visitare. Questa è la fotografia di mio padre e sono qui perché sono stato invitato da Marino Topan e vive di seguito. Era il 43, settembre del 43, durante il conflitto perché l'Italia era in conflitto con il Canada, l'Inghilterra e vive di seguito. Abbiamo ricevuto la notizia dopo un anno tramite la Croce Rossa perché le comunicazioni erano interrotte. Sono qui e l'ho un po' emozionato perché è parte della tragedia della mia famiglia. È un ricordo, è un'impressione che si dà specialmente ai giovani, i migranti che hanno sacrificato, che hanno dato la vita specialmente, sfortunatamente, che sono caduti. Solo questo posso dire. È un messaggio che dà nel futuro, per le giovani generazioni. Io sono parte degli anziani, sono un senior e per me è solo un ricordo, un ricordo della tragedia della famiglia che non si cancella più. Ma vorrei per esempio i miei nipoti che capiscono il periodo dei sacrifici. L'Italia era quella che era, i migranti venivano qui, non è il primo che è venuto e a Temins sono stati lavori pericolosi, specialmente nelle miniere, pericolosissimi. Dicono che la costruzione forse è peggiore, ma non lo so. Ma questo è il fatto. Io sono nato in Italia, è la mia patria, è logico. Mi sento un po' canadese perché parte della mia vita e della famiglia è rimasta qui. Perché io avevo otto anni quando ho perso mio padre e mi ha lasciato che avevo un anno e mezzo. Non ho neanche conosciuto praticamente, solo che mia madre ha fatto grandi sacrifici e è venuta qui ed è morta qui praticamente. Ma avevo 41 anni mio padre. È un po' triste. 42 anni sono passati, già sono rimasta con 5 figli e il più grande c'era 7 anni. Il secondo 6 anni, la terza 4 anni e mezzo, Giuseppe che è qui 2 anni e Francesco 10 mesi. Ho avuto un colpo veramente grande, però con l'aiuto del Signore della Vergine Santissima sono andato avanti. L'ho cresciuta, cose belle. Io ero all'età di 28 anni e mio marito 37 anni. È morto il 12 giugno 1964. Lui è arrivato qui in Canada al 51. Dopo 5 anni mi ha chiamato a me. Mi sono sposata qui. Dopo 7 anni sono andato con Gesù e sono rimasto con questi 5 bambini. Però questa è stata la mia corona, la mia contentezza, la mia gioia. I miei figli, sempre nel mio cuore. E io ho pregato sempre per tutti e prego per tutti. Gesù che ci dà tutto l'aiuto e la forza di come l'ha data a me. Le chiedo, la sua storia è sicuramente una storia simile a altre persone che sono qui. Quindi oggi è importante ricordare questa celebrazione per le persone che effettivamente hanno perso la loro vita. Qual è la speranza che le persone che sono morte possano in qualche modo essere un monito, un avviso per la sicurezza, per l'importanza della sicurezza nel lavoro. E soprattutto per evitare che ci possano essere tragedie del genere, anche al giorno d'oggi. Prego Gesù e la Vergine Santissima che non arrivi a nessuno queste cose. Auguri a tutti tante belle cose e che Gesù le guarda a tutti. Perché io ho trascorso 52 anni con l'aiuto del Signore e della Madonna. Qualcuno che mi domandava, io ho cinque sposi, ho Salvatore, ho Maria, ho Raffaella, ho Giuseppe e ho Francesco. Loro sono state la mia gioia e saranno la mia gioia insieme con le mie nipotene. Ho sei nipotene, ho sei nipotene, sono molto emozionato oggi, però nel cuore sento un'allegria. Oggi sono qui per l'allegria, che ho pianto abbastanza, ho sofferto abbastanza, tante cose, tante difficoltà. E oggi è una giornata gioiosa con le mie figlie, i nipotene e con tutti e con tutta questa compagnia oggi così bella. Siamo stati tutta la famiglia dispiaciuti per l'incidente di mio fratello il 1964, quando fu stato l'incidente di mio fratello sotto la fattoria dello zucchero che l'ha coperto e soffocato sotto le macerie. Perciò, quello che dico, speriamo che non succedano più incidenti di questo modo, si rovinano tutte le famiglie, tutte le famiglie che succede. E speriamo che le cose vanno migliore, che l'issefiti, il riguardo migliore per tutta la comunità italiana, perché sono i primi italiani che hanno costruito il Canada e hanno avuto molti incidenti e tutta la parte, specialmente la bassa Italia, che hanno sofferto tanto per l'incidente dei loro familiari. Io ancora sollevamo con l'Italia perché vado tutti gli anni, vengo dall'Italia tutti gli anni, l'amore della Calabria per me è la migliore cosa che è rimasta fra di noi. La ringrazio. Grazie a lei. Discorsi e racconti hanno caratterizzato l'evento, un momento toccante per tutta la comunità italo-canadese dell'Ontario. Tante persone hanno voluto partecipare perché in qualche modo coinvolte, come il signor Domenico, calabrese trasferitosi in Canada nel 1980, ed anche il cavaliere Mario Gentile, rappresentante delle guardie d'onore delle tombe reali del Pantheon di Roma. Le loro parole. Signor Domenico, la ringrazio per la disponibilità. Siamo qui in questa importante celebrazione per gli italiani e per gli italo-canadesi, per le persone che sono morte qui in Ontario dal 1900 ad oggi, lavorando qui e cercando comunque di creare e di farsi una vita migliore, una vita nuova. Qual è l'impatto che ha per le persone italiane e italo-canadesi che vivono qui? Ha un'importanza direi indescrivibile, nel senso che io sono venuto nell'80 qui, quando questi signori, queste generazioni, avevano già fatto per noi una strada d'oro, nel senso una strada dritta per noi, proprio per via del loro sacrificio. L'impatto che questa cerimonia può avere è ovvio, nel senso che uno potrebbe dire era ora che qualcosa si facesse, perché i nostri emigranti della fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, fino agli anni Sessanta, hanno sofferto molto le angherie anche dei datori di lavoro che spesso erano atroci. E quindi riconoscere insieme alle loro famiglie questi eroi, io li considero eroi dell'italianità, in Toronto e nel Canada direi in generale, e che loro sono stati i precursori di quella che è oggi la nostra società, cioè una società italo-canadese che può vivere libera di esprimere le proprie tradizioni e la propria provenienza. Lei mi diceva precedentemente che è realmente coinvolto poi nella dimensione italiana per l'insegnamento anche dell'italiano. Ci può parlare di questo? Sì, senz'altro. Io sono il direttore del Centro Scuola e Cultura Italiana, che è un'associazione che ha compiuto 40 anni alcuni anni fa, è preposta all'insegnamento della lingua e della cultura italiana, in collaborazione con i due provveditorati agli studi cattolici di Toronto e di York. Per cui la nostra associazione facilita l'insegnamento della lingua italiana a circa 30.000 studenti che appunto imparano italiano durante il giorno. E poi il mio onesto con l'Italia è ovvio, anche perché io porto i ragazzi in Italia, i ragazzi di scuola superiore, a far conoscere l'Italia, la tradizione, la religione italiana. Tant'è vero che a Pasqua, anzi mercoledì santo, abbiamo avuto un'udienza con il Papa, che è stata un'esperienza indimenticabile per noi e per i 90 ragazzi che erano con noi. Quindi, diciamo, oltre al fatto dell'italiano, dell'italianità, c'è anche l'aspetto, diciamo, affettivo, perché qui c'è una parente di mia madre che ha perso il marito sul lavoro molti, molti anni fa. Le chiedo, questo di oggi è un appuntamento indubbiamente importante. C'è una speranza che dopo questo, quello che viene commemorato non venga effettivamente dimenticato. Nel senso, oggi è l'inizio di un qualcosa. È un auspicio, che spero sia una sicurezza per noi, per la comunità, perché se solo qui per fare, se questa cerimonia dovesse rimanere solo una cerimonia, allora non avrebbe perso il vero senso del valore di questo tipo di cerimonia. Io penso che rimarrà, anche dalla presenza, in una giornata abbastanza fredda, di persone, di autorità che sono venute qua appunto a celebrare insieme ai familiari delle vittime, penso che sia una cosa che, un augurio che non finisca qua. Dobbiamo tenere presente che giornate del genere purtroppo sono giornate dolorose da pensare, come le guerre sono giornate non da festeggiare ma solamente da commemorare. Questa commemorare le manifestazioni di oggi, questa dedicazione in questo luogo che non si diventerà un po' un luogo, per quanto non è di tombe, non è un cimitero, però è un cimitero di nomi, dove in realtà gli italiani dall'inizio del secolo 900 hanno cominciato a perdere la vita per l'evoluzione futura di questo paese, questo paese che in realtà ha dato tanta gioia e ne continua ancora, ma anche i dolori nella perdita dei nostri connazionali di allora, gli emigranti dall'inizio del novecento, dove hanno creato tutto quello che oggi si goda e di fatti è avvenuta di anni fa di un Presidente della Repubblica, un Primo Ministro della Repubblica degli italiani, Andreotti, mi trovavo presente dove il Primo Ministro, allora Brian Mulroney invitava il Senatore Andreotti, allora era Primo Ministro, disse quello che voi vedete, avete notato in giro questi grattacieli, sono quelli che li hanno costruiti gli italiani, oggi di sé sono fiero di dirvi che i proprietari di questi grattacieli sono gli italiani, ciò significa che ecco il passo degli emigranti che non solamente ha creato un'evoluzione di cultura, tipica figli di romani, costruttori di strade, di quello che ci hanno lasciato, ma anche dato il senso di come saper vivere in comunità dove ci sono tanti altri gruppi etnici. Noi siamo una fionda, una luce da seguire per altri centri o altre comunità non italiane da seguire, noi perché questo è il primo monumento del genere dedicato agli emigranti che hanno perso la loro vita per questo paese, ci sono tanti altri gruppi emigratori, mi viene in mente ad esempio quelli dei portoghesi che hanno preso le retine degli italiani, per cui c'è qualcosa che non solamente onoriamo ma anche lasciamo ad altri da imparare come onorare coloro che hanno lasciato la loro patria per motivi di emigrazione, per motivi di stare meglio in famiglia. Coraggio e fede, due ancore a cui aggrapparsi, soprattutto in momenti di dolore, così come l'appartenenza, quel sentimento che non tramonta nonostante gli anni e la distanza. L'Italia come un pensiero fisso, le storie familiari a fare da sfondo, in molti hanno tributato il loro omaggio alle persone decedute, a chi ha perso la vita lavorando, magari in condizioni estreme, con fatica e dignità. Per costruire un futuro migliore per la propria famiglia, tanti giovani sono stati accompagnati da nonni e genitori davanti le torri del memoriale che raccoglievano i nomi di chi non c'è più, come uno zio o un vecchio parente, per non dimenticare e per insegnare. Giornate così servono soprattutto a questo. Grazie a tutti.